Si conoscerà probabilmente domani la sentenza sul ricorso presentato dalla coalizione sul Mona Unita che chiede l'annullamento delle elezioni comunali. Oggi c'è stata l'udienza dinanzi al Tar dell'Aquila il cui esito potrebbe aversi già giovedì se verranno rispettati i tempi del codice di giudizio amministrativo che prevede il deposito della sentenza il giorno dopo, spiega l'avvocato Luigi Di Loreto, uno dei legali del ricorso. I giudici si sono riservati solo la facoltà di emettere la sentenza senza procedere alla discussione che non è stata richiesta dagli avvocati, spiega Di Loreto, in quanto le eccezioni sollevate sono ben chiare ed affrontate con precisione nel ricorso. Sarebbe stato superfluo discuterne. Si tratta in realtà di due ricorsi, quello delle liste sul Mona Democratica e sul Mona Futura, cura dell'avvocato Arianna Giampaolo, e quello di Sul Mona al centro, PSI e le ali per Sul Mona, a cura di Luigi Di Loreto. Le cinque liste che sostenevano il compianto Fulvio di Benedetto chiedono di invalidare le elezioni, mantenendo fede all'annuncio fatto in seguito alla morte del candidato sindaco. La finalità del ricorso è quella di colmare il vuoto legislativo ribadiscono i rappresentanti di Sul Mona Unita che, ritenendo le consultazioni non legittime, si sono appellati al TAR e lo faranno, se necessario, anche in via subordinata alla Corte Costituzionale. Le motivazioni sono quelle che non si sarebbe tenuto conto dei criteri sistematici della norma che avrebbero dovuto portare ad un raffronto con un caso simile per procedere all'invalidazione anche in un comune con più di 15.000 abitanti.